Jacob & Co. Epic SF24, innovazione rivoluzionaria. L'Epic SF24 è un orologio che sfida le convenzioni con il suo straordinario display del tempo della città. Il termine «Epic» è appropriato, considerando il livello di innovazione e ingegneria impiegato in questo orologio. La sua caratteristica più distintiva è il display split flap, che mostra simultaneamente il tempo di 24 città in tutto il mondo. È possibile passare rapidamente da una città all'altra con una semplice pressione di un pulsante situato sul lato sinistro dell'orologio. Questa funzionalità è ispirata ai tradizionali display delle tabellate a scorrimento che si possono trovare negli aeroporti e nei film classici. Ogni pressione del pulsante fa avanzare il display delle città e allo stesso tempo, aggiorna l'indicazione delle ore arabe. Il calibro esclusivo GCA02 alimenta l'Epic SF24 e tutte le sue indicazioni orarie. Questo movimento è dotato di una riserva di carica di 48 ore, che viene mantenuta grazie a un meccanismo a rotore automatico. Il display principale dell'Epic SF24 è protetto da un cristallo zaffiro antiriflesso, che garantisce la massima chiarezza nella visualizzazione dell'ora. Inoltre, un cristallo zaffiro curvato è posizionato sopra il display split flap, consentendo di osservare il funzionamento spettacolare del meccanismo interno senza ostacoli. Anche il fondello della cassa è dotato di un cristallo zaffiro che presenta una decorazione metallizzata di Jacob & Co., affermando con orgoglio il nome del creatore dell'Epic SF24. Il quadrante dell'Epic SF24 presenta un design opal in antracite ad alto contrasto con numeri romani per indicare il fuso orario principale. Le lancette centrali e gli indici orari sono luminescenti, garantendo una leggibilità ottimale in qualsiasi situazione. L'Epic SF24 turbione è una versione ancora più avanzata di questo straordinario orologio. Presenta molte delle caratteristiche dell'Epic SF24 standard, ma offre anche un tourbillon volante di un minuto, che migliora ulteriormente le prestazioni cronometriche dell'orologio. Il tourbillon è stato originariamente progettato per annullare gli effetti della gravità sui movimenti dell'orologio, assicurando una maggiore precisione. Nell'Epic SF24 tourbillon, il tourbillon è visibile attraverso una gabbia finemente decorata che aggiunge un elemento di bellezza e complessità al quadrante. Il calibro esclusivo GCA03 alimenta l'Epic SF24 tourbillon, con una riserva di carica di 48 ore che viene mantenuta da un meccanismo a rotore automatico. L'Epic SF24 e SF24 tourbillon rappresentano pietre miliari nell'orologeria contemporanea.